La Vivo MG Kvis dal Colle domina questa Gran Fondo San Benedetto del Tronto. Luca, hai allungato in discesa quei 10 secondi che hai difeso da gran passista sino al termine. Diciamo di sì, ci ho provato in tutti i modi, in salita, in pianura, in discesa. L'ultima discesa è stata quella fondamentale. In salita era molto difficile andare via perché c'era Carlini, penso, quasi di casa, che conosceva molto bene il percorso e comunque va molto forte. Ci siamo difesi bene, abbiamo sempre cercato con tutta la squadra di stare uniti. Come arma finale avevamo comunque un Filippi e Giulio Scaia che comunque sono molto veloci. Io ho anticipato l'ultima discesa e è nato tutto per il meglio. Per te è la sesta vittoria stagionale, tra cui la Strade Bianche, ma non possiamo non ricordare la Nove Colli dello scorso anno e un appuntamento imminente. Mancano 14 giorni e adesso mi prenderò un weekend, un po' di riposo. Che ne ho bisogno perché comunque è da l'anno che si corre e bisogna anche dare un po' far riposare le gambe. Diciamo che è stato un anno fino adesso fantastico, il fisico ha sempre risposto alla grande e spero che per qualche weekend vada ancora così.